Di buon mattino sentì che nella sala centrale della casa c'era del rumore, una conversazione concitata. Quando aprì la porta, vidi Pietro scendere le scale e Giovanni seguirlo. Giovanni si voltò un istante e vide il mio volto sorridente, felicissimo. Nella sala c'erano alcuni discepoli e Maria di Magdala. Essa era venuta di corsa dal sepolcro, dicendo che qualcuno vi era andato prima, aveva tolto il corpo di Gesù. Pietro e Giovanni erano corsi al sepolcro. Giovanni torna presto gridando, Maria, Maria, Gesù è risorto, non c'è più nella tomba, è risorto davvero. Lo so, figlio mio, è risorto come aveva promesso. Pietro e Dio, continuò Giovanni, siamo corsi insieme alla tomba dopo l'annuncio di Maria di Magdala. La mia impazienza mi ha portato a precederlo. Poi siamo avanzati insieme nel sepolcro e abbiamo visto il luogo dove era stato deposto il corpo di Gesù. Dopo aver osservato tutto, ebbene, ci siamo convinti che il corpo di Gesù non era stato portato via. Se fosse stato rubato, avrebbero preso col corpo anche la sindone e il sudario, o li avrebbero lasciati là, buttati in disordine. E invece tutto era in ordine. I soldati che custodivano la tomba erano scomparsi. Mantendo il silenzio sull'apparizione toccata a me, ma tutti si accorgevano dal mio volto e dalle mie parole che io avevo avuto qualche manifestazione particolare da mio figlio. La maddalena era entusiasta e come fuori di sé gridava «Sì, Gesù è risorto, l'ho visto e mi ha parlato». Ero convinta che il corpo di Gesù fosse stato portato via e mentre piangevo ho sentito qualcuno vicino a me che diceva «Donna, perché piangi?». Pensando che fosse il custode dell'orto, gli ho detto «Se sei stato tu a portarlo via, dimmelo dove l'hai portato. Io stessa andrò a riprenderlo». E lui mi disse «Maria». Quella voce, quell'accento, quel tono inconfondibile era del mio signore. «Rabbunì, maestro!» esclamai e andando verso di lui mi gettai ai suoi piedi abbracciandoli commossa e felice. «Non mi trattenera perché non sono ancora salito al padre, ma tu, vada ai fratelli e annuncia».